Parte dalla convocazione degli assessori comunali e le politiche sociali dei principali comuni del Friuli Venezia Giulia, il pacchetto di attività risposta del caos sul sostegno al reddito. Una di queste convocazioni è di fatti arrivata all'assessore triestino Carlo Grilli, che si incontrerà a breve con i vertici regionali e gli altri colleghi per tracciare la strada, circa le prossime mosse utili e risolvere i problemi già noti. Un incontro tra colleghi dunque che servirà per un confronto, ma anche per una valutazione dell'incidenza che il disservizio della misura ha portato in tutta la regione, con poi una probabile relazione sulle criticità maggiori incontrate in tutto il territorio. La mobilitazione dei cittadini non è passata inosservata. Lo sprone arrivato dalle centinaia, se non migliaia di persone senza sussidio dei mesi, ha velocizzato un iter già avviato dall'Aggiunta regionale, ma reso ora prioritario in virtù di quanto esposto dai cittadini. Nel contempo dall'incontro di ieri tra aventi diritto la misura del sostegno al reddito e l'assessore regionale Riccardo Riccardi, è emerso l'impegno dell'amministrazione regionale con ulteriori due punti chiave, fare in modo di non sospendere quei servizi come gas, acqua, luce e permanenza in alloggio Ater erogati alle famiglie più in difficoltà, poi un confronto con il Banco Alimentare per verificarne l'effettiva disponibilità di scorte aggiuntive a quella normalmente distribuita. Infine, come già anticipato, c'è la necessità di coinvolgere i responsabili degli ambiti del servizio sociale dei comuni per un'immediata verifica delle situazioni sensibili, monitorando se sarà possibile intervenire subito per alleviarle fino al momento in cui l'orogazione dei rei sarà a regime.